Un consiglio generale collabora direttamente con la madre nel governo e nell'animazione dell'istituto. Ma è innanzitutto una piccola comunità delle figlie della Chiesa, chiamata a vivere nello stile di comunione, il carisma e anche a testimoniarlo per prime con la vita. Con la madre si avalle del consiglio e affidando dei settori, per esempio la formazione, i laici, l'ufficio missionario, la pastorella giovanile, altri. E questo settore deve essere animato da una consigliera proprio come aiuto alla madre. Inoltre il consiglio ha il compito di aiutare la madre nel discernimento per prendere decisioni. Nelle decisioni che la madre deve prendere e chiede proprio per avere luce, per avere uno sguardo più ampio di quello che potrebbe avere lei da sola, in vista di ciò che è il suo compito, per prendere le decisioni importanti per le sorelle, per l'istituto e per tutto quanto riguarda il suo compito. Questo è un'esperienza sinonale, un'esperienza collegiale. Nella vita religiosa abbiamo parecchie esperienze o a diversi livelli si vive questo, no? La più significativa, la più importante è il capitolo generale, più rappresentativa, più partecipativa. E questo è bello perché esprime la natura stessa della Chiesa, della Chiesa Comunione, che una è molteplice, è una nella diversità. Ogni membro ha una funzione, però tutto per raggiungere la stessa meta che è la sanità.